In questo video parleremo di altre tre sostanze utili per il trattamento della rosacea papulopustolosa. In particolare parleremo di tre sostanze a uso topico ovvero la solfacetamide, lo zolfo e la minociclina. La solfacetamide è una sostanza dotata di attività antimicrobica nei confronti dei batteri gran più, gran meno e le clamidie. Viene utilizzata principalmente per il trattamento dell'acne in quanto svolge appunto un ruolo antimicrobico. Alcuni studi clinici hanno dimostrato che una schiuma emolliente a base di solfacetamide al 10%, zolfo al 5% e contenente anche dei filtri solari è utile per il trattamento della rosacea papulopustolosa. In particolare questa schiuma medicale è stata confrontata con una crema a base di metronidazolo allo 0,75%. Questa schiuma si è rivelata molto efficace per ridurre le lesioni infiammatorie della rosacea papulopustolosa in quanto le riduce di un 80% contro il 75% ottenuto con la crema a base di metronidazolo. Inoltre questa schiuma è capace di ridurre l'eritema di un 69% contro il 45% ottenuto sempre con la formulazione a base di metronidazolo. Il trattamento a base di schiuma medicale di solfacetamide, zolfo e filtri solari va protratto per 12 settimane. Di norma è un trattamento sicuro però si possono evidenziare delle risposte infiammatorie anomale in alcuni soggetti che richiedono appunto la sospensione del medicinale. In questi casi è essenziale confrontarsi tempestivamente con lo specialista e valutare se sospendere o modificare appunto la strategia terapeutica. Lo zolfo è una sostanza dotata di attività antimicrobica e cheratolitica. In campo dermatologico può essere utilizzato nella concentrazione massima del 20%. È utile per il trattamento delle dermatiti seborroiche, dell'acne, degli ezemi e delle infezioni cutanee. Per quanto riguarda la rosacea papulopustolosa è utile per ridurre le lesioni infiammatorie poiché svolge un ruolo sia appunto cheratolitico e quindi facilita l'eliminazione delle cellule morte ma anche antimicrobico. Bisogna comunque precisare che l'utilizzo dello zolfo può comportare degli effetti collaterali anche gravi tra cui l'irritazione, la secchezza e la comparsa di dermatiti. Inoltre sebbene sia utile per eliminare o per ridurre le pustole sia nell'acne che nella rosacea papulopustolosa, lo zolfo nei trattamenti a lungo termine può favorire la comparsa dei comedoni. Quindi anche in questo caso è estremamente utile confrontarsi sempre con il proprio specialista prima di iniziare qualsiasi tipo di intervento. La minociclina è un farmaco antibiotico appartenente alla classe delle tetracicline. Viene utilizzato per il trattamento della rosacea papulopustolosa per uso orale poiché svolge un'azione antinfiammatoria sulla pelle. Sebbene questo medicinale sia generalmente sicuro le dose di impiego alcuni ricercatori si sono concentrati per riuscire a formulare un medicinale per uso topico a base di minociclina. Due studi clinici hanno dimostrato l'efficacia di una schiuma a base di minociclina all'1,5% per il trattamento delle lesioni infiammatorie della rosacea papulopustolosa. Questo medicinale si è rivelato efficace dopo un trattamento di 12 settimane. Quindi possiamo dire che questa nuova formulazione a base di minociclina per uso topico ha ridotto ulteriormente tutti gli effetti collaterali legati all'utilizzo di questo medicinale per uso orale. Io vi saluto, iscrivetevi al canale mi raccomando e vi aspetto al prossimo video dove vi parlerò di alcune strategie innovative per il trattamento topico della rosacea papulopustolosa.